Sabato prossimo, 12 maggio, la profumeria Sabbioni di via 4 Novembre a Ravenna per un intera giornata ospiterà la Make Up School Diego Dalla Palma. Dopo il successo dell'evento organizzato a Faenza, Metamarsol, le profumerie Sabbioni hanno organizzato un nuovo appuntamento con l'esperto di bellezza. Perché è senza dubbio il sogno segreto di ogni donna, quello di avere un make up artist a propria disposizione al quale poter chiedere suggerimenti sul trucco e poter provare direttamente sul proprio volto i prodotti consigliati. Obiettivo degli incontri sarà proprio quello di insegnare i segreti del make up per esaltare le caratteristiche che rendono unico il volto di ogni donna, i piccoli gesti quotidiani che sanno esaltare sguardo e sorriso o i consigli per scoprire le tonalità più adatte al proprio incarnato, valorizzando così la propria bellezza. Preziosi consigli ad hoc da non perdere, ma per tutte coloro che non potranno partecipare all'incontro, poiché a numero chiuso, saranno disponibili consigli altrettanto preziosi delle responsabili dei punti vendita, anche per aiutare a scegliere un regalo per la festa della mamma, in programma al giorno seguente, domenica 13, perché sicuramente in profumeria un regalo per la mamma non si sbaglia mai.